Pochi giorni a settembre con la ripresa della scuola si dovrà fare i conti con Green Pass e personale scolastico che ancora non si è vaccinato. Un banco di prova per il comune di Padova che deve gestire nidi e materne comunali. Gli istituti dovranno avere una figura preposta al controllo quotidiano del Green Pass. Noi controlleremo solo che questo Green Pass sia valido. Per il resto se non c'è la validità non possiamo far lavorare le persone all'interno o far entrare persone all'interno che non abbiano questo Green Pass valido. Una situazione incerta e non definita perché ancora non è chiaro quanti siano i docenti e il personale scolastico non ancora vaccinato sul territorio della provincia di Padova. Potremmo verificare all'aumento dell'apertura delle scuole il personale sia educatore che insegnante di scuola dell'infanzia o personale adulto che lavora all'interno delle scuole. Il resto sono insegnanti e personale atta delle scuole statali e il controllo deve essere fatto dall'istituto comprensivo e non da noi. Non sappiamo ancora quanti sono perché logicamente lo vedremo alla prova dei fatti. All'USL e Oganea il Comune e i vari plessi scolastici statali e privati hanno inviato gli elenchi del personale e ora l'azienda sanitaria locale deve fare le opportune verifiche. Senza il Green Pass non si può entrare e lavorare a scuola. Il problema principale si pone con gli insegnanti Novax da sostituire in corsa all'inizio dell'anno. Se uno non ha il Green Pass valido potrebbe essere messo in aspettativa, cioè non potrebbe entrare all'interno della scuola. Quindi in quel caso là dovremmo ricorrere a personale supplente e questo ha un onere anche per il Comune.